Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Mentre il calcio italiano sta portando a conclusione la sua stagione, perché ci mancano solo le due finali andate a ritorno della Serie C, con la sfida tra Vicenza e Carrarese per conquistare il ventesimo posto nel prossimo campionato di Serie B. I motori si stanno scaldando e siamo pronti per i campionati europei, la grande manifestazione di quest'estate, del mese di giugno, che naturalmente seguirò con il canale. Ho cominciato a guardare qualche amichevole, mi è piaciuto soprattutto la partita Inghilterra contro Bosnia, dove l'Inghilterra, che è la mia favorita di questa edizione, ha giocato una partita solida, l'ha risolta grazie a un calcio di rigore, e poi nel finale ha messo lì altri due gol, sono d'accordo, vittoria 3-0, sono d'accordo con il CT Gareth Southgate, queste partite è meglio vincerle, così anche come mentalità creare già un percorso vincente. L'Italia invece, ieri sera, contro la Turchia non è riuscita a realizzare lo stesso risultato, la partita è finita 0-0, certo l'avversario era più ostico, perché la Turchia è sicuramente molto più forte della Bosnia, la Turchia che parteciperà ai campionati europei, la Bosnia invece no, e quindi da questo punto di vista ok, le due partite non sono perfettamente sovrapponibili, però diciamo che come vi è sembrata la partita dell'Italia? A me personalmente è poco soddisfacente, lo vedremo anche dopo nelle pagelle, non penso sia una prestazione assolutamente da considerare sufficiente. Certo abbiamo poi le solite giustificazioni evidenti, è poco tempo che stanno insieme, la stagione è comunque lunga, va bene, d'accordo su tutto, questo ci mancherebbe altro, però come prima esibizione, devo dire la verità, mi sarei aspettato qualcosa in più, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista anche della voglia, che ho visto un po' pochino. Da un punto di vista in generale, sapete, il calcio moderno non mi piace, non riesco a trovare bello vedere giocatori che si passano la palla e la passano al portiere rischiando di farsi gol da soli, tenere la palla a tutti i costi, fare il possesso di palla giustificando tutto il tempo il passaggio all'indietro, io questo non lo trovo calcio, tiferò per giocare con una punta sola, peccato, peccato, purtroppo io sono un nostalgico, lo sapete, a me piace il calcio degli anni 90, nostalgia di Euro 92, di Euro 96, Euro 92 addirittura avevamo ancora solo 8 squadre, nel 96 ci fu il primo allargamento, ora addirittura siamo ad avere 24 squadre su 53 che hanno fatto la qualificazione, siamo alla follia assoluta e per di più queste 24 squadre si assomigliano quasi tutte perché il modo di giocare bene o mai, bene o mai, oramai è lo stesso male, ma ne parleremo nel corso della manifestazione, questa Italia come dicevo non mi ha convinto, mi ha convinto veramente molto poco, sia da un punto di vista delle prestazioni individuali, sia da un punto di vista d'assieme del gioco di squadra vero e proprio, un po' porosa in difesa, tante difficoltà, la Turchia mi è piaciuta molto di più, forse anche le aspettative ovviamente erano diverse, l'Italia non credo stavolta parta realmente con favore del pronostico, ma neanche forse con sogni di gloria più di un tanto, però bisogna sempre ricordare che gli europei sono alla fine una manifestazione di un mese nel quale necessariamente non vince la squadra che è più forte in valore assoluto, bisogna essere più forti in quel mese, bisogna essere forti di testa, bisogna credere nel progetto che si ha e bisogna avere una missione, quello che fece l'Italia nel 2021 quando sicuramente non era la squadra più forte dell'otto, ma mise insieme una serie di ottime risultati arrivando poi alla vittoria contro l'Inghilterra. Certo, poi non bisogna fare l'errore di credere perché si è vinto il torneo di essere veramente i più forti d'Europa o del mondo, perché è lì che poi dopo nascono i problemi come è stato per l'Italia. Ora c'è Spalletti come CT al posto di Mancini, un CT divisivo sicuramente, che ora gode ancora dell'onda lunga del grande successo con il Napoli nel campionato scorso, in un torneo nel quale ha fatto un capolavoro, è stato bravissimo lui, sono stati bravissimi giocatori, però è una stagione che vi invito sempre a ricordare condizionata o comunque caratterizzata dal fatto di avere un mondiale al suo interno, non soltanto dal giocarsi dopo un mondiale, ma il mondiale era proprio dentro, quindi è evidente che valevano un po' tutte regole diverse per quella manifestazione, o comunque il Napoli è stato bravissimo ad adattarsi e Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro. Della partita di ieri quello che mi è piaciuto è stato l'aspetto di recupero palla, soprattutto nel primo tempo, mi sembra la cosa che abbia funzionato un po' meglio, quello che invece non mi è piaciuto è la pochissima incisività in fase offensiva, la porosità difensiva, qualche insicurezza latente qua e là, prestazioni individuali molto negative di alcuni di più di un giocatore e poco entusiasmo quasi, io non sono riuscito a intravedere quella voglia di andare, è vero, le amichevoli sono pericolose, ce lo insegna Kabal, che fino a quel momento era anche il miglior giocatore della Turchia e si è fatto male e adesso non ho avuto ancora modo di leggere quali sono i tempi di recupero per lui, o comunque siamo nei pressi di una grande manifestazione, quindi è evidente che bisogna stare attenti, piedi di piombo diciamo, andare molto con calma prima di rischiare di farsi male e perdere una grande manifestazione, però nonostante questo davvero mi è sembrata un'Italia troppo lenta, troppo compassata, mi è piaciuto solo l'inizio del secondo tempo quando Orsolini è stato sostituito, è entrato Cambiaso, le cose migliori l'Italia le ha fatte quando è riuscito ad andare sulla fascia, pensa che novità, è il gioco del calcio, se si va sulla fascia qualcosa di interessante dove si riesce anche a costruire, Giorginio il solito è piuttosto evanescente in fase di costruzione di gioco, la costruzione di gioco è sicuramente l'aspetto nel quale l'Italia è mancata completamente, prestazioni individuali mi è piaciuto Cristante, mi è piaciuto qualcosa di Di Marco, poco altro, non mi è dispiaciuto Calafiori quando è entrato, che quantomeno come motivazione mi è sembrato averne qualcosa in più rispetto ai suoi compagni di squadra, però è stata un'Italia povera proprio da tantissimi punti di vista, palo comunque di Cristante una delle occasioni principali, nel secondo tempo qualcosa di pericoloso soprattutto inizio gara, anche nel finale la chance di Raspadori l'unica volta che sostanzialmente ha toccato il pallone, una buona conclusione, casualmente anche in quel caso sfruttando un lavoro sulle fasce, una bella Turchia, una bella Turchia organizzata, sicura dietro a parte quando hanno rischiato anche loro con pazzesche tentativi di giocate all'interno dell'area o assurdi retropassaggi per niente, lì davanti un po' troppo, poco incisivi perché un paio di occasioni avrebbero potuto sfruttare un po' meno, un'Italia che ha avuto anche un Orsolini ammonito che avrebbe potuto essere espulso perché ha fatto un secondo faro da cartellino giallo, Bastoni che ha fatto un faro da cartellino giallo non è stato ammonito, Mancini invece che è stato ammonito, tante difficoltà, il lavoro da fare è ancora tantissimo, come prima uscita la trovo insufficiente, notevolmente insufficiente, però non vedo l'ora di sentire le vostre opinioni, vi do le mie pagelle che sono, l'Italia d'altra parte lo sappiamo è abituata, partenzelente, magari anche contestazioni o come si chiama, aria attorno al progetto negativa e poi magari viene fuori il colpaccio quando si comincerà a fare sul serio, vediamo, vedremo la seconda amichevole anche come andrà, pagelle, sei a Vicario, sei a Di Lorenzo, qualche incertezza ma alla fine la sufficienza la porta a casa, quattro e mezzo a Mancini, sbaglio in impostazione, cartellino giallo, insicurezze varie, non mi è piaciuto neanche un po', sei a Bastoni, sei e mezzo a Di Marco che il suo quantomeno è riuscito a farlo, sei e mezzo a Cristante con però troppe imprecisioni in fase di costruzione, cinque a Giorginio chiamato fuori da gioco, peraltro il suo gioco è passare alla parola indietro, però insomma troppo troppo poco, quattro e mezzo a Orsolini, forse davvero troppo carico, cinque e mezzo a Pellegrini, cinque a Chiesa, sei a Retek, che quantomeno è l'unico che mi è sembrato avere voglia di giocare, di combattere davvero, di subentrati, cinque a Raspadori, sei a Zaccagni, sei a Frattesi, sei e mezzo a Cambiaso, cinque e mezzo a Fagioli, del quale non sono d'accordo del fatto che sia stato convocato, cinque a Spalletti, rapidamente per la Turchia che sta finendo il video, Bindir sei e mezzo, Cerik sei, Kabak sette, Ban...